Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilberto, sono uno studente universitario che appunto studia Economia all'Università di Cuneo e lavoro anche in questo settore visto che sono socio di una società che offre consulenza e contabilità per le aziende. In questo breve video voglio mostrarvi quello che è l'andamento dei miei investimenti per il mese di giugno. Oggi, al momento della registrazione, siamo al 13 luglio, vi farò vedere però l'andamento, cioè le mie entrate e le mie uscite per quanto riguarda il mese di giugno. Allora, vi direi di cominciare facendovi vedere quelle che sono la parte un po' meno importante, ovvero il peer-to-peer lending. Per chi non lo sapesse io invece su Bondora, ho fatto diversi video in cui spiego secondo me qual è la situazione attuale di Bondora. Io vi consiglio di andare a vedere se siete interessati un po' al peer-to-peer lending. In descrizione vi lascio anche un link affiliato appunto che vi permetterà di, nel momento in cui vi registrerete, se avete intenzione di farlo, e ottenere un bonus di 5€ per iniziare al meglio la vostra avventura nel mondo degli investimenti. Come vedete ho 763,14€ in visit su Bondora. Per quanto riguarda giugno ho incassato il suo controllo, mi pare interessi per 5,34€. Ve lo faccio vedere qua, io me lo conteggio qua mese per mese. In totale giugno mi sono entrati 5,34€. Se vedete che a maggio ho incassato di più è semplicemente perché ho tolto dei soldi da Bondora, perché ho visto che c'erano delle belle occasioni nel mercato azionario, quindi ho deciso di togliere una parte dei soldi. Infatti come vedete facevo circa 25 centesimi al giorno di interessi, ora ne faccio solo più 15€. Questo perché? Perché penso che in questo preciso momento ci siano più occasioni nel mercato azionario. Quindi in questo momento qua cerco di spostare un po' di liquidità dal peer-to-peer lending al mercato azionario, e poi successivamente quando vedo che non ci sono più occasioni nel mercato azionario, risposterò o comunque aumenterò la mia posizione nel mercato del peer-to-peer lending. Quindi per quanto riguarda giugno ho incassato, come vi dicevo, interessi per 5,34€. Per quanto riguarda invece il mercato azionario, come potete vedere, ora al 13 luglio sono in profit di 677€, adesso si sta aggiornando, comunque 678€ più i dividendi e le plusvalenze, ma quelle però non le conteggiamo. Io però vi farò vedere qual era la situazione al 31 giugno, infatti andiamo qua sul mio drive, dove monitoro giorno per giorno, e vi faccio vedere quello che è stato l'andamento. Infatti abbiamo al 1 giugno, avevo depositati 6.640€, e il mio portafoglio valeva 6.998,49€. Quindi un profitto di 358, compreso di plusvalenze realizzate, dividendi più l'aumento del valore delle azioni. Quindi un profitto in teoria di 5,40% sulla carta. Andiamo a vedere però quale è stata la situazione al 31 giugno. Al 30 giugno, scusate, al 30 giugno avevo 8.010€ depositati, perché per quanto riguarda giugno ho investito, qua c'è i dati, ho aumentato le mie posizioni per 1.670€, quindi ho versato altri 1.670€, e il mio portafoglio al 30 giugno valeva 8.481€, quindi un profitto di 471,34€ e in percentuale del 5,88€. Ora, se siete curiosi, al 12, cioè ieri, l'ultimo giorno, a chi si è chiuso, ho depositato altri soldi, vabbè, quello è un altro discorso, comunque sono 8.310€ depositati, il mio portafoglio vale 9.055,84€, con un profitto di 745,84€ e in percentuale dell'8,98%. Adesso vi faccio vedere il grafico, questo è più interessante, questo qua è il grafico che tiene conto non della percentuale, ma del profitto. Infatti, per dirvi, qua il top che ho toccato è l'8 giugno, che era in profitto di 1.084,91€, poi c'è stato un crollo vertiginoso che mi ha portato in praticamente 3 giorni a essere in profitto solo più di 246,50€ e pian pianino ora sta un po' risalendo, adesso sono tornato a 745,84€. Però, secondo me, la parte un po' più interessante è il grafico però che tiene conto delle percentuali, perché alla fine si basa solo su quello. Ad esempio, qua come vedete, al 29 aprile, ero in profitto di 172€, però in percentuale del mio portafoglio era il 9,38%. Poi ho sempre caricato più soldi, quindi pian pianino la percentuale si appiattisce. Comunque, come vedete qua, 1084,91€ all'8 giugno ero in profitto del 15%, poi sono in profitto del 3,58€ e ora sono in profitto dell'8,98%, come vi dicevo prima. Per quanto riguarda i dividendi, andiamo a vedere pure che dividendi ho preso nel... nel mese di giugno, che ho ricevuto parecchi dividendi, andiamo a vedere storia, dividendi, ho ricevuto un totale, guardiamo qua, di 10,27€ di dividendi. Infatti, se noi filtriamo per data, mettiamo 1 giugno, 30 giugno, ho ricevuto dividendi da Intel per 1,01€, dividendi da E.ON, che sarebbe un po' tipo l'Enel tedesca, praticamente, l'Enel tedesca, e ho ricevuto un dividendo di 3,73€. Poi, nello staggiorno, il 12 giugno, ho ricevuto dividendi da Microsoft e da Applied Materials, per 1,15€, 0,33€. Poi, dai miei R8, di cui ricevo, mi pare, penso anche staggier industriale, ma non sono sicuro, dividendi mensili. Comunque, a Realty Income, sono sicuro che rilascio un dividendo mensile di 53 centesimi. Poi ho ricevuto dividendi da Home Depot, da Waste Management, da Qualcomm, Bank of America, NVIDIA, e basta. Per un totale, come vi dicevo, di 10,27€. Per quanto riguarda quelle che sono le mie idee per i prossimi investimenti, per quanto riguarda luglio, visto che questo video qua, penso di rifarlo poi, ad inizio agosto, penso probabilmente di aumentare le mie posizioni in Bondora, se ce ne sarà l'occasione. Ad esempio, se non trovo occasione nel mercato azionario, diciamo che un po' di liquidità, la rilascio su Bondora, visto che attualmente 763,14€ non ricopre il 10% del mio portafoglio, e io su Bondora voglio avere almeno, o comunque al massimo, il 10%. Voglio avere un importo che si attesta più o meno intorno al 10%, e questo qua è nettamente sotto. Quindi aumentano le mie posizioni nel momento in cui nel mercato azionario non troverò più occasioni. Come vi dicevo, nello scorso video, sto tenendo sott'occhio Visa, Westrock e Bank of America, perché voglio aumentare le mie posizioni. Bank of America ho già 14 azioni, Westrock ne ho 27, è la posizione più grande che ho nel mio portafoglio, come vedete qua, per un valore di 662,00€. Ora è in negativo di 23,00€, ma non mi interessa, la mia ottica è di lungo termine. Quindi per quanto riguarda il mercato azionario, sto tenendo sotto occhio queste tre aziende più queste qua, che però le sto solo tenendo d'occhio, quindi non c'è nulla di ufficiale, quindi non so se ci investirò sopra. Sto tenendo sotto occhio queste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 azioni. Comunque vi farò sapere nei prossimi video, farò un altro video a breve su Bondovera, quindi se siete interessati magari iscrivetevi. Niente regà, io spero che questo video vi sia stato utile, vi vi lasciate un bel like, un commentino, e niente regà, ci vediamo al prossimo video. ooooh! 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 ooooh!